La Salernitana ha ripreso gli allenamenti questa mattina presso il centro sportivo terzo tempo di San Mango Piemonte. Gli uomini di Carlo Perrone hanno svolto partite di calcio, tennis ed hanno provato situazioni tattiche offensive. La seduta di allenamento si è conclusa con esercitazioni sui tiri in porta. Ciro Ginestra ha svolto lavoro atletico differenziato, il resto della squadra si è allenato regolarmente. Dunque col gruppo anche Munar che tuttavia ha vissuto una settimana tormentata a causa di problemi ad un flessore. La seduta di rifinitura in vista della gara di domenica contro la Vigor Lamezia è fissata per domani alle 10.30 al campo settembrino di Fratte. La seduta di allenamento si svolgerà a porte chiuse. Ad Agropoli Perrone ieri pomeriggio ha approvato una formazione che presumibilmente non sarà quella che domenica affronterà la Rechi, la Vigor, la Mezzia. Contro i delfini cilentani Granata hanno vinto 3-1 a Torette di Molinari e poi gol di Montervino, Gustavo e Guazzo, giocando nel primo tempo con il 3-5-2 e nella ripresa con il 3-3-3. Di sicuro se Munar rientrerà il tridente sarà immediatamente abbandonato, il francese sarà schierato da Perrone alle spalle delle due punte oppure a centro campo ed in questo caso la squadra giocherà con il 3-5-2. In preallarme ci sono Capua, Montervino ancora squalificato e Gustavo. Guazzo rientra dopo il turno di squalifica. Sicuramente contro la difesa, meno battuta del campionato, la Vigor, la Mezzia ha subito appena 12 gol, realizzandone soltanto 13. Ci vorrà una serenitana concentrata in fase offensiva e concreta. Ginestra non segna dal 6 gennaio scorso, Guazzo dalla settimana successiva, doppietta contro il Chieti. Nelle ultime tre partite Granata hanno segnato soltanto due reti, quella di Montervino ad Aversa e quella di Munar a Foligno. Per questo Perrone valuterà fino all'ultimo le condizioni di Munar e Ginestra.